Racconta adesso quello che è successo questa mattina in Commissione Giustizia dove la ghigliottina è stata applicata a un decreto molto controverso che il Movimento 5 Stelle ha denunciato come palesemente ingiusto, cioè il decreto sullo cosiddetto svuotacarce. Sì, anche in Commissione Giustizia è stata applicata la ghigliottina, evidentemente gli uffici di presidenza della Commissione Affari Costituzionali e Giustizia si sono allineati perfettamente al metodo ghigliottina Boldrini, si stava discutendo un provvedimento importantissimo che è il decreto svuotacarceri attraverso il quale questo governo sta facendo passare un indulto mascherato gravissimo, un decreto grazie al quale sono già usciti mafiosi dal carcere noi volevamo far sentire la nostra voce, anche noi volevamo semplicemente fare il nostro lavoro qui dentro che è il lavoro di un'opposizione consapevole degli effetti delle leggi che passano in questo Parlamento e volevamo presentare e discutere i nostri emendamenti. Non c'è stato permesso, aggiungo anche che la Presidente ha chiuso immediatamente la discussione e mentre usciva il capogruppo Verini, capogruppo del PD in Commissione Giustizia si è rivolto a noi dicendo quando uscite spegnete la luce, questo è il livello di democrazia che concepisce il PD, ma di fronte a questi affronti che sono gravissimi non per noi ma per i cittadini noi andremo avanti con maggiore forza e maggiore determinazione anche in Commissione Giustizia.